Computer, macchine fotografiche, qualche spicciolo, è questo il bottino del furto messo a segno giovedì sera negli uffici di Palazzo Santini del Comune di Lucca. Un furto dai contorni ancora tutti da definire, ma che non sembra collegato all'intenzione di rubare documenti riservati. Il colpo è stato messo a segno molto probabilmente nelle ore in cui si svolgeva il Consiglio Comunale. I malintenzionati si sono impossessati di apparecchiature informatiche, fra cui un pc portatile e alcune macchine fotografiche degli uffici ambiente e del centro unico acquisti. I ladri hanno sottratto anche una somma di denaro e una carta di credito ai danni di una dipendente del Comune. Nelle memorie di computer fotocamere ci sono dati riservati, ma da una prima ricostruzione non sembra che i ladri abbiano agito per carpire documenti. Molto più probabile che si trattasse di uno o più ladri che sono stati attirati dalle porte aperte di Palazzo Santini in occasione del Consiglio Comunale. Le indagini stanno procedendo in queste ore e sono condotte dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale.